Benvenuti cari followers. Finalmente una bella notizia. Le previsioni indicano che pioggia e neve torneranno in Italia tra poche ore. Ma prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video, poiché stiamo lavorando molto duramente per realizzare questi video per te. Quindi, un aggiornamento davvero meraviglioso dal modello europeo, che indica l'ingresso di un temporale molto forte in Italia a partire da mercoledì 17 gennaio 2024, e porterà con sé precipitazioni molto forti nel nord e centro Italia e in aree separate di al sud, con abbondanti nevicate sulle Alpi e nelle zone prealpine, e questo temporale proseguirà. Il forte vigore interesserà l'Italia almeno fino a giovedì notte e quindi a partire da mercoledì. Piogge molto forti accompagnate da grandine e rischio di nevicate, alluvioni improvvise in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana. Piogge in alcune zone di Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Deboli. Piogge in varie zone della Calabria, Basilicata, Puglia, Molise. Come ho detto, si tratta di un forte temporale che continuerà a colpire l'Italia almeno fino a giovedì notte, in attessa dell'arrivo di un altro temporale più potente nei prossimi giorni, carico di abbondanti nevicate e anche di pioggia, e proveremo a fornirti i dettagli in seguito.